Horribi dolci cosa? Horribi dolci! Questo è un numero pazzesco. Una tartaruga che va sullo skate. Ehi! Guardate che velocità pazzesca che raggiungo! Mamma mia! Che paura! Non vuoi troppo, però, mi fia! Mamma, te faccio un'imitazione! Chi sono? Indiana Jones! Non dite che ce la faccia come oggi, se mi ha capito! Faccia la linguaccia! A Del Piero io ho insegnato io! Che sono? Mamma mia! Non mi regolano le zampette! Portatemi a letto! Mamma mia! Che abbiocco! Che ignorante o mio padrone! Gli devo tradurre tutto io! Che vita da cane! Ficca! Le principesse sono olmande! Sono tutte rossa! Sono tutte belle! Grazie per la visione!